Adesso con il pan bauletto mangio il prosciutto cotto, nevroni. Di solito prendo il balanzone a casa Modena, stavolta ho provato questo qua, ma mi sa che è un pelo diverso. Si assomigliano dai, si assomigliano, è un po' più friabile questo. Ok adesso apro e mangio il pan bauletto. Ciao! Ciao!